A posto. Buonasera a tutti. Questa sera vediamo gli ultimi argomenti teorici che ci mancano, gli ultimi argomenti teorici grossi, quelli che poi vi permetteranno di completare tutti gli esercizi che si presenteranno anche all'esame. In particolare oggi vediamo gli alberi e le code. Abbiamo già visto gli alberi quando abbiamo introdotto i grafi, e se qualcuno si ricorda la definizione di albero è un grafo non orientato, aciclico e connesso. Infatti abbiamo detto che l'albero è quella struttura dati, è quel grafo che contiene il numero minimo di archi per mantenere tutti i vertici connessi. Passerebbe un solo arco in meno e il nostro grafo non sarebbe più connesso. altrimenti si chiamerebbe foresta, se si perde la proprietà di connessione si parla di foresta. Gli alberi, oltre che essere una tipologia di grafi, sono una struttura dati estremamente importante in informatica perché permettono di risolvere una serie di problemi comuni per via delle proprietà che adesso andremo ad analizzare insieme. C'è una differenza sostanziale nel modo in cui gli alberi vengono visti da qualsiasi persona e dagli informatici, perché per gli informatici un albero ha le radici in alto e le foglie in basso, quindi come nella figura di destra. Quindi cos'è un albero? Una struttura gerarchica con un insieme di nodi e di archi, di archi che collegano i vari nodi. Abbiamo detto che è una struttura dati fondamentale nella programmazione, una struttura dati non lineare, che permette di rappresentare una gerarchia, e oserei dire anche piuttosto intuitiva, in genere anche chi non l'ha mai vista dal punto di vista formale non ha problemi a identificare un albero quando vede una gerarchia. Tra le proprietà più importanti troviamo l'efficienza nel riuscire a trovare degli elementi in questa struttura dati nell'inserzione e nella cancellazione. Abbiamo visto che ci sono altre strutture dati, come ad esempio gli hash, che forniscono delle proprietà simili, quindi efficienza nel trovare, nell'inserzione e nell'eliminazione, però vedremo che gli alberi avranno delle proprietà in più, a volte molto interessanti. Un esempio di albero è la gerarchia delle classi di JavaFX, l'abbiamo vista qualche lezione fa, e possiamo dire che questa non è nient'altro che una rappresentazione ad albero, dove abbiamo un nodo radice, poi diversi nodi intermedi e alla fine abbiamo i nodi foglia. Un altro esempio è l'ordinamento dello stato italiano e di nuovo definisce una struttura gerarchica che può essere molto semplicemente implementata sotto forma di albero. Quindi, vediamo quali sono le basi dell'albero nella programmazione. Abbiamo detto che ci sono dei nodi che sono connessi dagli archi, i nodi rappresentano degli oggetti e delle entità, più o meno complesse, e gli archi rappresentano la relazione che è sussisto tra questi nodi. Abbiamo detto che l'albero è un grafo non orientato, potremmo anche considerarlo orientato. Di solito non si indicano le frecce, perché la direzione è quella che va dal nodo radice verso i nodi foglia. Una caratteristica interessante è che per ogni nodo esiste uno e un solo percorso che permette di raggiungerlo. Ad esempio, in questo caso, se volessimo arrivare all'elemento snake, serpente, l'unico percorso che permette di arrivarci è quello che passa da, se vogliamo partire ad esempio al nodo radice, quello che passa dal nodo radice, poi passa ai rettili e infine al serpente. Quindi l'albero presenta sempre un solo cammino per ogni nodo, appunto perché è connesso ed è a ciclico. Il fatto che non presenti cicli implica che non ci siano più cammini. All'interno di un albero identifichiamo il nodo radice, il nodo root, il nodo leaf, i nodi leaf che sono i nodi foglia, il nodo root è il primo, quello in alto nella gerarchia, i nodi foglia invece sono quelli che si trovano in basso. Poi identifichiamo i nodi intermedi, che sono tutti quelli che non appartengono al nodo radice, ai nodi foglia. Infine identifichiamo gli archi e i cammini, l'arco collega due nodi, invece il cammino identifica una sequenza di archi. C'è una struttura, un albero identifica una struttura gerarchica e si parla di nodo padre e di nodo figlio, quindi rispetto a un nodo è possibile identificare quello subito antecedente come nodo padre, invece i nodi successori sono i nodi figli. Poi si parla di nodi fratelli, si parla di discendenti successori, di antenati pre-eccessori, così come in un albero genealogico ad esempio. Si parla inoltre di visita e di attraversamento. Cos'è la visita? La visita significa applicare una funzione, da noi definita, che esegua delle operazioni su ciascuna entità, su ciascun nodo dell'albero. Se l'albero è molto semplice, quindi come nodi dell'albero abbiamo semplicemente dei numeri, degli interi, una visita potrebbe essere la stampa di questi numeri, ma non è detto che sia semplicemente una stampa, potrebbe essere qualche operazione più complessa, quindi non confondiamo la visita con una stampa. Visitare comunque significa applicare una qualche funzione da noi programmata a ciascuna e processare un nodo. L'attraversamento invece significa visitare in modo ordinato, secondo una qualche logica, tutti i nodi, in questo caso di un albero. Cos'è il livello? Il livello di un particolare nodo si riferisce al numero di step, quindi al numero di passi necessario raggiungere un nodo a partire da quello radice. e il nodo radice si assume a essere a livello zero. Invece l'altezza si riferisce alla lunghezza del percorso a partire da un nodo fino a quello al nodo foglia. L'altezza di un albero coincide con la lunghezza con il numero di livelli a partire dal numero di livelli che permette di collegare il nodo radice con il nodo foglia. E un albero con solo il nodo radice ha altezza pari a zero. quindi facciamo un attimo di facciamo questo esempio e premiamo a risolverlo. Qual è il numero di nodi? Il numero di nodi di questo albero è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 direi. 3, 4, 7, 8, 9, sì. Quindi questo albero ha 9 nodi e ha un'altezza che è pari a 1, 2, 3, 4 che è uguale anche al numero di livelli. Le foglie sono i nodi che non hanno dei figli quindi sono C, D, F, H, I. I nodi interni sono tutti quelli che invece hanno dei figli quindi G, E, B ed A. I nodi antenati di H sono G, E, B ed A. Invece i nodi discendenti di B sono E, G, H e I. Invece i fratelli di E sono D ed F. Un esempio molto semplice però giusto per avere una terminologia per essere sicuri della terminologia. Vediamo quindi questa è una rappresentazione di di un albero dove i nodi sono degli interi e una possibile e ci chiediamo come è possibile rappresentare questo albero in programmazione? Se volessi creare un programma con questa rappresentazione come potrei fare? Beh, di sicuro una possibilità è quella di utilizzare una qualche libreria dei grafi come ad esempio jgraph-t il problema è che utilizzare una libreria dei grafi per rappresentare un albero non è la scelta ottima perché non è perché è una libreria molto generica permette di fare un sacco di operazioni e non è specifica per gli alberi quindi sarebbe meglio l'implementazione ad hoc specifica per gli alberi e una possibilità prevede quella di salvare all'interno di ciascun nodo la lista dei nodi figli quindi potrei creare una classe nodo dove questa classe nodo contiene sia il dato in questo caso un semplice intero ma poi anche una lista di altri nodi che sono i nodi figli e un'altra possibilità potrebbe anche essere quella di non soltanto aggiungere i figli ma anche i fratelli quindi quelli che sono allo stesso livello si potrebbe anche avere poi il puntatore ad esempio il nodo padre quindi ci sono differenti rappresentazioni e bisogna scegliere quella adatta in base alle proprie esigenze questo esempio un altro tipo di rappresentazione che veniva utilizzata nei primi computer negli anni 70 comunque non vorrei troppo entrare nei dettagli del codice perché di fatto non utilizzeremo mai gli alberi nei nostri programmi in modo diretto ma direi in modo indiretto quindi sia tramite la libreria jgraph jgraph t oppure tramite una trimap ecc però cerchiamo comunque di comprendere appieno questa struttura dati perché in parte l'abbiamo già anche vista con la ricorsione però non l'abbiamo mai studiata e quindi potrebbe essere un'occasione per vedere più nel dettaglio abbiamo detto la differenza tra visita e attraversamento dove la visita significa applicare una determinata funzione da ciascun nodo dell'albero e attraversamento invece scusate la visita significa applicare una determinata funzione ad un nodo in particolare invece l'attraversamento significa applicare la visita a tutti i nodi secondo un particolare criterio e quindi ci chiediamo come facciamo a visitare un albero l'albero è una struttura dati che ci ricorda la ricorsione infatti quando parlavamo della ricorsione abbiamo detto che la ricorsione ci permette di risolvere tre tipi di problemi ci permette di risolvere dei problemi come ad esempio quello del calcolo del numero di fibonacci del fattoriale di un numero quindi dei problemi che al loro interno contengono realmente una procedura ricorsiva sono problemi che hanno una formuletta che si ripete e quindi diventa molto semplice applicarli implementarli con un metodo ricorsivo poi abbiamo visto che la ricorsione permette di esplorare lo spazio delle soluzioni quindi abbiamo un problema di ottimizzazione ad esempio dobbiamo trovare la soluzione migliore che potrebbe essere quella che abbiamo visto nei vari laboratori come esempio la sequenza delle varie città che il commesso viaggiatore doveva o l'operario se non mi ricordo che doveva toccare per effettuare i vari interventi di manutenzione quindi abbiamo uno spazio delle soluzioni particolarmente ampio e dobbiamo esplorarlo e quindi applichiamo il metodo ricorsivo per valutare tutte le possibili soluzioni poi abbiamo visto che con diversi criteri è possibile limitare questo spazio infine può essere utilizzata per effettuare proprio la visita di un albero questo perché l'albero come struttura dati se vi ricordate è proprio un parente stretto di come la ricorsione poi funziona infatti se volessi visitare un albero se volessi implementare la visita di un albero questo è il codice che vi ricorderà di sicuro una struttura semplificata molto simile a quella che vi ho passato quindi all'inizio della visita fai qualcosa sul nodo che potrebbe essere esempio stamparlo ma ho qualche operazione più complessa e poi per tutti i nodi figli del nodo corrente chiama la visita quindi questo qui è un classico semplicissimo algoritmo di ricorsione che fa qualcosa su ciascun nodo e poi viene richiamato sui nodi sottostanti ed implementerebbe una visita in profondità dell'albero quindi partirebbe da una doradice prenderebbe il primo cammino di sinistra andrebbe fino in fondo poi tornerebbe su e man mano risale di un livello e cerca di andare nel ramo di destra ovviamente se c'è qualsiasi problema interrompetemi domande eccetera non fate problemi quindi un esempio è questo qui un esempio diviso è questo qui prima stampo i dati ci sono due if che però servono semplicemente a creare una visualizzazione un pochino migliore quindi possiamo benissimo ignorarli questi due if perché semplicemente stampano una parentesi aperta una parentesi chiuda e una parentesi chiusa però ignorandoli vediamo che il programma semplicemente stampa il dato e poi richiama la visita sui nodi figli quindi un semplicissimo esempio di ricorsione da notare che non è detto che queste operazioni che debbano essere effettuate sempre su ciascun nodo debbano essere fatte prima di richiamare la ricorsione sui nodi figli potrei benissimo applicare le mie operazioni alla fine della visita di nodi figli per diverse ragioni vedremo poi un esempio tutto chiaro sugli alberi su questa introduzione molto generale sugli alberi se non avete domande passiamo ad una tipologia particolare di alberi che si chiamano alberi binari gli alberi binari hanno una proprietà molto interessante ossia ciascun nodo ha al massimo due nodi figli e si può quindi parlare di figlio di sinistra e figlio di destra ma anche di sotto albero sub tree di sinistra e sub tree di destra quindi l'altezza di cerchiamo di capire se è un albero se abbiamo un albero binario e questo albero binario è bilanciato cosa significa bilanciato gli alberi binari possono essere detto molto semplicemente belli o brutti sono belli se sono pieni quindi non hanno tanti buchi sono molto brutti se invece cominciano ad avere dei buchi in questo caso qua ci sono dei buchi perché manca un nodo qui in basso a sinistra poi un altro nodo qui in basso a destra e due diversi nodi in basso a destra il fatto che manchino dei nodi sulla destra non ci preoccupa molto però il fatto che ci siano dei buchi sulla sinistra è un pochino di più quindi questo non è un albero perfettamente bilanciato cos'è un albero perfettamente bilanciato lo vedremo forse nella prossima slide comunque un albero bilanciato è un albero dove l'altezza tra il ramo di sinistra e il ramo di destra differisce al massimo di uno quindi hanno più o meno la stessa altezza siccome però è un albero binario qual è l'altezza dell'albero con n nodi qualcuno me lo sa dire diciamo e consideriamo il caso di un albero bilanciato qui abbiamo un albero bilanciato abbiamo n nodi sappiamo che al massimo un nodo può avere due figli qual è l'altezza di questo albero l'altezza è il logaritmo di n ossia il logaritmo in base 2 del numero di nodi dell'albero quindi questo significa che se è bilanciato un albero di altezza h avrà al massimo 2 elevato ad h meno 1 nodi le definizioni qua c'è una nota le definizioni di bilanciamento possono variare da libro a libro quindi non esiste una definizione unica si parla poi di alberi binari completi un albero binario completo è un albero con pochi buchi un albero binario con pochi buchi e in particolare gli unici buchi sono sulla sinistra quindi deve essere completo fino deve avere tutti i nodi fino al livello meno 1 fino al livello massimo meno 1 forse devo abbassare un pochino il voluto parlante per evitare che mi sentite ancora si quindi è un albero che ha tutti i nodi fino al livello massimo meno 1 e invece sul livello massimo ha dei buchi soltanto sulla destra quindi sulla sinistra è completamente riempito tranne alcuni nodi sulla destra perché è importante perché è importante parlare di albero bilanciato di albero completo eccetera perché la proprietà del logaritmo sia il fatto che l'altezza sia il logaritmo del numero di nodi è importante perché ci dà un limite sulla complessità delle operazioni sull'albero quindi se l'albero non è bilanciato o non è completo e quindi ha un sacco di buchi all'interno della sua struttura non è più una struttura dati efficiente perché l'altezza non è più legata dal logaritmo perché non c'è più questa relazione logaritmica tra l'altezza e il numero di nodi inoltre il fatto avere un albero completo avere un albero binario completo permette di implementare l'albero come un array infatti se assegniamo un identificativo numerico a ciascun elemento dell'albero in questo caso la assegniamo 1 b2 c3 e così via e lo implementiamo come array vi faccio notare alcune proprietà interessanti ad esempio se da a che il nodo radice volesse ottenere i nodi figli dovrei moltiplicare il suo identificativo per 2 quindi 1 per 2 fa 2 e otterrei il figlio di sinistra se lo moltiplico per 2 e assommo 1 ottengo il nodo di destra se da c voglio tornare ad a divido per 2 e prendo la parte intera e quindi ottengo il nodo 1 quindi ho tutta una serie di proprietà molto interessanti che mi permettono di spostarmi all'interno di questa all'interno dell'albero della rappresentazione e questa è una rappresentazione specifica per l'albero binario perché non vale se ho un albero con un numero diverso di nodi di nodi figli per ciascun nodo quindi in definitiva un albero binario completo può essere salvato in modo efficiente in una struttura dati tipo array prima vi ho parlato di alberi bilanciati alberi completi quando è che invece l'albero binario degenera e non è più efficiente come struttura quando abbiamo uno sbilanciamento completo come in questo caso dove l'albero assomiglia più ad una lista di elementi piuttosto che ad un albero come abbiamo visto prima esistono però tutta una serie di tecniche di ribilanciamento che fanno sì che quando si inserisce o si toglie un elemento sia possibile ritornare ad un albero bilanciato quindi quello che succede è che l'albero magari si crea durante l'evoluzione del programma quindi man mano che il programma va avanti quest'albero viene modificato ma ad ogni modifica ad ogni modifica segue un'operazione di ribilanciamento che fa sì che l'albero rimanga comunque sempre bilanciato completo eccetera in modo tale che tutte le proprietà viste finora sussistano riguardo invece all'attraversamento di un albero esistono tre diverse possibili modalità che vengono identificate che vengono chiamate quelle in pre-order in order e post-order pre-order cosa significa prima si processa il nodo radice poi si passa al sottoalbero di sinistra e poi al sottoalbero di destra ed è una procedura ricorsiva quindi processo il nodo radice e poi richiamo la visita sul sottoalbero di sinistra quindi di nuovo processerò il nuovo nodo radice di questo sottoalbero e così via invece in order significa processo inizio esplorando il sottoalbero di sinistra poi quando ho finito la visita ricorsiva sul lamo di sinistra esploro il nodo radice ed infine applico la procedura ricorsiva sul sottoalbero di destra il post-order infine è la terza possibilità si esplora il sottoalbero di sinistra il sottoalbero di destra e poi il nodo radice quindi ricapitolando pre-order significa nodo radice sinistra destra in order sinistra radice destra post-order sinistra destra radice quindi la differenza quindi si esplora sempre l'albero di sinistra prima di quello di destra quello che cambia è quando si esplora il nodo radice quindi facciamo degli esempi ma vedremo che poi c'è un trucchino che renderà il tutto molto più semplice questo è un trucco ora se vogliamo fare una visita pre-order di questo albero come facciamo? nella visita pre-order abbiamo detto che si parte il nodo radice poi si passa il sottoalbero di sinistra e poi quello di destra quindi il nodo radice 17 41 passo al sottoalbero di sinistra torno al 29 che è di nuovo il sottoalbero di sinistra passo al 29 che è il sottoalbero di sinistra poi il 41 è già esplorato passo al 6 poi il 9 poi il 81 e il 40 quindi ho fatto prima il 17 nodo radice per primo poi passo al sottoalbero di sinistra 41 29 6 9 81 40 nel caso della visita in order si parte in quella in order abbiamo detto che si parte dal sottoalbero di sinistra poi il nodo radice e poi il sottoalbero di destra quindi qual è il sottoalbero di sinistra rispetto a 17 è 41 rispetto a 41 è 29 quindi il primo è 29 quindi 29 poi il nodo radice di 29 e il nodo padre di 29 è 41 quindi 29 è 41 poi sottoalbero di destra 6 vado su di un livello rispetto alla ricorsione nodo radice 17 poi a questo punto esploro il sottoalbero di destra partendo però dal sottoalbero di sinistra perché a sua volta viene richiamata la visita sul sottoalbero di sinistra quindi 81 9 40 insomma sembrerebbe un pochino complicata vediamo però esiste un trucco se costruisco il cammino che di fatto circonda il nostro albero quindi tocca tutti i vertici sia all'interno che all'esterno cosa vediamo che se noi prendiamo tutti i punti in cui questo cammino rosso tocca un nodo sulla sinistra abbiamo la visita in preorder se prendiamo tutti i vertici l'ordine in cui i vertici vengono toccati dal segmento orizzontale quindi in basso diventa una visita in order se invece prendiamo l'ordine dei nodi con cui questi vengono toccati dal segmento di destra sulla destra allora abbiamo la visita in post order quindi se noi volessimo fare la visita in preorder partiamo con 17 41 29 6 9 81 40 è lo stesso con gli altri quindi esistono tre tipi di visite su un albero potete sia calcularle pensando a come la procedura ricorsiva funzionerebbe nel caso di una visita prefissa infissa post fissa oppure potete disegnare se volete calcolare la mano vi consiglio di disegnare questo cammino e poi pensare a dove ciascun nodo viene toccato sulla sinistra sulla destra o in basso e in base a quello fare il tipo di visita o perlomeno guardare dove un nodo viene toccato in base al tipo di visita che dovete fare questo qui è un altro esempio che vi consiglio di risolvere siccome è un pochino più complicato vi consiglio subito di partire con il disegno del cammino perché queste notazioni però perché queste visite prefissa infissa e post fissa sono importanti perché nel 24 un esperto di logica matematica ha notato che esprimendo un'espressione matematica in una notazione chiamata prefissa o anche notazione polacca non è necessario inserire le parentesi quindi se ho una notazione come questa come una formula quindi 3 per aperta parentesi 2 più 7 e le esprimo come una notazione prefissa in cui l'operatore precede gli argomenti quindi per precede 3 e 2 più 7 e poi il più precede il 2 e il 7 quindi è possibile eliminare le parentesi però l'espressione rimane comunque chiara ossia elimino le parentesi perché non ne ho bisogno e alcuni studi dicono anche che questo è il modo in cui il nostro cervello in modo automatico ed inconscio calcola le diverse operazioni matematiche inoltre esiste una conseguenza molto interessante di questa notazione prefissa invertendo l'ordine e quindi ottenendo la notazione prefissa la notazione postfissa ossia la notazione prefissa inversa si ottiene la notazione polacca inversa che è quella che viene utilizzata in alcune calcolatrici in particolare quelle della Hewlett Packard quelle dell'HP per implementare le diverse operazioni quindi a differenza di prima abbiamo abbiamo che l'operando segue i vari argomenti quindi 3 poi abbiamo 2 e 7 il più perché il più è relativo a 2 e 7 e il per in fondo questo è molto interessante perché esiste una struttura matematica esiste una struttura datica che è lo stack che non abbiamo visto direttamente ma più volte citata perché è quella su cui si basa poi il funzionamento dei computer perché il computer sistema operativo si avvale di due strutture dati principalmente che sono lo stack e l'IP lo stack dove viene salvato lo stato corrente del programma l'IP invece dove vengono allocati gli oggetti della memoria e quindi si è visto che utilizzando questa notazione lo stack e la struttura dati dello stack è possibile implementare molto comodamente le diverse operazioni matematiche perché perché si fa il pop che sarebbe si prende dallo stack l'elemento più in alto lo stack è una struttura dati di tipo l'IFO ossia last in first out ossia l'ultimo ad arrivare il primo ad uscire quindi all'opposto rispetto alla coda del supermercato e quello che succede è che si fa il pop di quello che c'è nello stack in alto quindi in questo caso del per e si sa che se è un'operazione di moltiplicazione bisogna prendere due argomenti due numeri in questo caso però come primo numero non troviamo un numero ma troviamo un'altra operazione quindi sappiamo che dobbiamo di nuovo prendere due numeri che sono il 2 e il 7 preso il 2 e il 7 li sommo e metto il risultato di nuovo nello stack quindi il mio stack inizialmente aveva per più 7 2 e 3 tolgo il per mi aspetto due numeri non trovo due numeri ma trovo un segno quindi devo prendere altri due numeri calcolo il risultato di questa operazione e la rinserisco quindi 2 più 7 fa 9 rinserisco 9 nello stack e troverò 3 e 9 e per a questo punto posso prendere il 9 posso prendere il 3 e li moltiplico ottengo il risultato e che è 27 e lo reinserisco nello stack con questo trucchetto e la notazione polacca inversa è possibile implementare in un calcolatore in modo molto semplice le diverse operazioni matematiche senza la necessità di inserire le parentesi ma nonostante questo l'espressione matematica non è ambigua perché esiste un ordine un ordine logico e quindi qui nella foto si vede appunto un esempio di calcolatrice non proprio recentissima però una calcolatrice della Hewlett Packard che molto probabilmente utilizza questa notazione postfissa è un coprocessore matematico degli anni 80 il coprocessore è un un circuito integrato che si abbina alla alla CPU che si occupa esclusivamente delle operazioni matematiche un tempo forse erano separati oggi si cerca di integrare il tutto all'interno dello stesso circuito integrato quindi ritornando ai nostri alberi binari vediamo che un'espressione matematica può essere rappresentata sotto forma di albero e in base a come si visita quindi se si visita in pre-order in order o post-order otteniamo le diverse notazioni prefisse infisse e post-fisse quindi vi consiglio di fare delle prove ma otterrete lo stesso risultato di prima riassumendo se avete un'espressione matematica con delle parentesi potete rappresentarla come un albero in base a come visitate questo albero ottenete le diverse le diverse rappresentazioni alternative della stessa espressione matematica in ultimo ultimo argomento riguardo agli alberi BST Binary Search Tree abbiamo visto che gli alberi binari sono un particolare tipo di albero in cui ogni nodo ha al massimo due nodi figli se aggiungiamo anche se aggiungiamo un'ulteriore proprietà ossia che il nodo di sinistra deve essere minore del valore del nodo radice o del nodo padre otteniamo un albero binario ordinato ossia esiste una relazione di ordinamento tra i diversi elementi quindi rispetto al nodo radice 55 i nodi che si trovano nel sottoalbero di sinistra hanno un valore che è inferiore a quello del nodo radice 55 e i nodi che si trovano nel sottoalbero di destra hanno un valore che è superiore quindi meno 3 si trova in questa posizione perché è minore di 55 e minore di 29 invece 42 si trova qui perché è minore di 55 ma maggiore di 29 quindi la struttura dati BST binary search tree salva gli elementi in modo ordinato in modo tale che sia veloce trovare gli elementi e ottenere anche la lista ordinata ottenere anche questi elementi in modo ordinato attenzione però a verificare che l'albero binario un albero binario sia effettivamente un albero binario di ricerca un BST ad esempio in questo caso meno 7 non è minore di meno 5 dovrebbe trovarsi in questa posizione qui quindi è sulla destra di meno 1 no scusate meno 7 sì sulla sinistra no sulla destra di meno 1 e perché è minore di meno 1 sì sulla sinistra di meno 1 scusate e invece si trova sulla destra di meno 5 questo è sbagliato sarebbe corretto se non ci fosse il meno ma ci fosse il più nel caso di un solo nodo invece è un nodo è un albero BST valido in questo caso 1.9 minore di 7.2 9.6 maggiore di 7.2 direi che è un albero binario di ricerca valido attenzione allo stesso problema di prima che citavamo prima ossia perché l'albero binario sia interessante deve essere bilanciato e possibilmente completo perché altrimenti si ottiene una degenerazione dell'albero binario e le proprietà interessanti che sono legate alla complessità logaritmica in base sul numero di nodi si perdono in questo caso qua abbiamo delle lettere quindi l'ordinamento è quello alfabetico e non funziona perché K dovrebbe essere alla sinistra di M e vabbè qui c'è tutta un'altra serie di esempi quindi quello che ci interessa è perché gli alberi binari sono interessanti perché abbiamo detto ci permettono di ottenere gli elementi in modo ordinato perché sono una struttura dati che già memorizza gli elementi in modo ordinato quindi non è come nel caso di un array dove noi abbiamo un array inseriamo un elemento e poi ordiniamo l'array qui è la struttura dati stessa che nel suo funzionamento prevede l'ordinamento degli elementi inoltre il fatto stesso che prevede l'ordinamento ci semplifica notevolmente sia l'inserzione quindi sia il mantenimento dell'ordinamento che la ricerca infatti se volessimo cercare 31 come facciamo? 31 sappiamo che è maggiore di 18 quindi cerchiamo sul sottoalbero di destra ma è minore di 35 quindi lo cerchiamo sul sottoalbero di sinistra ma è maggiore di 22 quindi è sul sottoalbero di destra e vedete che in 1, 2, 3 e qua 1, 2, 3 passi siamo riusciti a trovare il nodo se invece avessi avuto un intero array avrei dovuto iterare su tutti quindi una lista un vettore avrei dovuto iterare su tutti gli elementi fino a trovare 31 o non trovarlo e sarebbe stato molto più lungo quindi permette di fare la ricerca in meno passi quindi la ricerca nel BST è 1 grande la notazione 1 grande ve lo ricordate significa che ha una complessità pari a questa variabile qui quindi una complessità lineare in base all'altezza ma l'altezza sappiamo che è legata dal logaritmo in base 2 al numero di nodi quindi sappiamo che l'altezza se l'albero binario è completo e bilanciato è circa pari al logaritmo in base 2 del numero di nodi quindi trovare un elemento all'interno di un BST ha una complessità che è 1 grande di logaritmo di n e se vi ricordate la lista delle complessità parlare di una complessità logaritmica è un'ottima complessità ovviamente maggiore rispetto alla complessità grande di 1 perché non è una costante ma è nettamente inferiore rispetto a quella lineare che a sua volta è inferiore rispetto a quella quadratica cubica eccetera quindi si parla di un'ottima complessità per una struttura dati e siccome abbiamo finito le diverse strutture dati vi ripropongo la solita tabellina con le diverse complessità che ormai conoscete benissimo e quello che vi faccio notare è che l'ultima volta quando abbiamo parlato di questa tabellina abbiamo parlato dell'hash ricordate esempio dell'hash set dove inserire un elemento rimuoverlo e sapere se il set contiene questo elemento ha una complessità costante sempre che la funzione di hash sia fatta bene non abbia collisioni eccetera che è molto migliore rispetto alle altre strutture dati dove ad esempio la rimozione in un array era uno grande dn la rimozione in una lista è uno grande dn e il sapere se una lista continua un oggetto è uno grande dn quindi una complessità ottima il bst rispetto all'hash ha una complessità leggermente una complessità superiore perché logaritmica non è più costante tuttavia è ancora estremamente interessante perché il set se vi ricordate è un insieme dove gli oggetti non sono duplicati ma soprattutto non esiste un ordinamento degli oggetti ossia se io stampassi il set in un qualsiasi istante non stamperei gli oggetti ordinati quindi non 1, 2, 3 ma gli oggetti in modo casuale in base a come la funzione di hash in base all'indice che la funzione di hash genera invece la proprietà del BST è che non solo permette la ricerca la rimozione e sapere se c'è un oggetto in modo abbastanza veloce perché ha una complessità logaritmica ma al suo interno mantiene anche un ordinamento degli elementi e questa è una proprietà in più rispetto all'hash quindi a volte ci sono dei casi in cui siamo disposti a sacrificare un pochino di performance quindi siamo disposti ad andare un pochino più lenti purché ci sia la possibilità di mantenere i dati in modo ordinato sia in fase fin dalla fase di costruzione quindi fin da quando li inserisco inizialmente sono già ordinati non c'è bisogno di inserire una lista e poi ordinare la lista e ok direi che con questo abbiamo finito la parte sugli alberi avete delle domande? passiamo ora all'altro argomento della giornata che sono le priority queue che sono le code le code sono una struttura di dati molto interessante perché sono quelle che utilizzerete nell'ultima grossa tipologia di esercizi che vedremo che sono le simulazioni le simulazioni non sono nient'altro che un esercizio in cui dovete simulare l'andamento di un particolare sistema giusto per farvi un esempio potrebbe essere l'andamento di un magazzino quindi delle scorte di magazzino in base a degli eventi che si verificano oppure potrebbe essere l'occupazione lo spostamento di persone tra diversi tra diversi aeroporti a seconda delle linee aeree che collegano i vari aeroporti quindi è necessario per parlare di simulazione è necessario processare degli eventi e come inserire questi eventi bisogna inserire all'interno di una coda perché gli eventi vanno processati secondo un ordine e quindi la coda più semplice a cui si può che si può immaginare è quella fifo ossia first in first out il primo ad arrivare è il primo ad uscire ed è quella classica del supermercato quindi mettete in coda davanti alla cassa prima arrivate e prima uscite implementare una coda di questo tipo è abbastanza banale si può utilizzare semplicemente una lista quindi utilizzando un array list avete una coda come si fa? si inserisce si inseriscono gli elementi all'interno di questa coda in una parte della coda quindi ad esempio al fondo e si estraggono però all'inizio oppure si inseriscono all'inizio e si estraggono al fondo bisogna estrarli dalla parte opposta perché sia una fifo altrimenti diventa uno stack e quindi diventano strutture dati di tipo l'ifo quindi non confondete i tre e due l'ifo significa estraggo l'ultimo che ho inserito fifo invece estraggo il primo che ho inserito quindi quello più vecchio e implementare questo non c'è bisogno di nessuna struttura di dati particolare basta utilizzare una coda quindi nel caso di una simulazione in cui gli eventi hanno tutti la stessa proprietà si può benissimo utilizzare una fifo una lista un array list il problema è quando gli eventi hanno una diversa priorità associata un classico esempio è quello dell'ospedale dove il paziente arriva in ospedale viene assegnato un diverso codice bianco verde giallo rosso e in base viene assegnato in base alla gravità della situazione e ovviamente con quale criterio vengono poi vengono gestiti diversi pazienti in base alla gravità della situazione quindi un codice rosso verrà sempre gestito prima di un codice giallo e prima di un codice verde quindi possiamo immaginare diverse code la prima implementazione è quella di immaginare diverse code ciascuna relativa ad un codice quindi esiste il codice rosso la coda del codice rosso la coda del codice giallo del codice verde del codice bianco e non si processa nulla in una coda prima che quella priorità maggiore non sia vuota questa è una possibilità però qual è lo svantaggio di questa soluzione? è che questa soluzione richiede la definizione a priori del numero di priorità perché devo creare in modo statico un diverso numero di code poi in questo caso ad esempio ho 4 priorità quindi è ancora gestibile però pensate al caso in cui ho decine di centinaia di priorità diverse magari perché sono la ditta di spedizione e ciascun pacco ha una priorità differente allora conviene pensare ad una struttura dati in cui gli elementi siano ordinati in modo tale che come primo elemento pesco sempre quello che ha priorità maggiore quindi che come ordinamento si trova in prima posizione e quindi si parla di priority queue come posso implementare una priority queue? potrei implementarla come lista e ogni volta rimuovere l'elemento con la massima priorità però sappiamo che la lista è una struttura di dati lineare quindi per trovare l'elemento con la massima priorità è come se dovessi sapere se la lista contiene un oggetto e quindi devo nel peggiore dei casi no in realtà non nel peggiore dei casi ma sempre devo iterare su tutta la lista quindi se la lista contiene n elementi l'operazione di estrazione di quella priorità maggiore è grande di n ottimo allora dico ok non utilizzo una lista utilizzo una sorta di list va bene quindi è una lista che mantengo ordinata però se notate utilizzare una sorta di list non è è di più rispetto a quello di cui io ho bisogno perché io vorrei soltanto estrarre l'elemento con la priorità massima non mi interessa sapere qual è il quarto elemento con priorità massima mi interessa sapere soltanto l'elemento con priorità massima quindi di fatto l'ordinamento è un qualcosa di più che è possibile evitare potrei utilizzare quindi un minor research tree che al suo interno si mantiene un ordinamento che di nuovo potrei dire che in realtà è eccessivo rispetto ai miei bisogni però permette le operazioni di ricerca e rimozione e varie con una complessità pari al log di n mentre prima la rimozione era grande di 1 ma l'aggiunta era grande di n quindi tra la sorta di list e il binary search tree è meglio utilizzare il binary search tree per via della complessità in realtà poi vedremo che esiste una struttura di dati apposta che si chiama heap che implementa proprio le priority queue che verrà utilizzata proprio per implementare il priority queue ed è una versione modificata rispetto al binary search tree con delle piccole differenze quindi parlando nello specifico di java se parliamo di code ci riferiamo al ramo della gerarchia dove abbiamo l'interfaccia queue l'interfaccia coda e in particolare ci interessa l'implementazione del priority queue vedete che l'interfaccia queue viene implementata sia dalla linked list perché ho detto che la linked list è l'implementazione più semplice di fifo in alternativa se abbiamo bisogno di una coda prioritaria utilizziamo la priority queue quali sono i metodi dell'interfaccia coda i principali sono questi sono aggiunta rimozione e poi examine che significa ottieni l'elemento senza rimuoverlo ci sono due versioni per ciascuna di per ciascun metodo e questo quello che cambia tra un metodo e l'altro è come java gestisce il caso in cui l'elemento non ci sia perché ovviamente la coda potrebbe essere vuota e quindi quando chiedo oppure potrebbe essere piena quindi se è piena e provo ad aggiungere potrei avere un errore se rimuovo ma è vuota se cerco di rimuovere un elemento ma la coda è vuota potrei avere di nuovo un errore quindi nella versione safe che è quella verde mi viene ritornato null invece nella versione rossa mi sembra venga ritornata venga scatenata un'eccezione quindi in base alla logica del vostro programma decidete se è meglio che venga generata un'eccezione quindi puoi gestire le eccezioni in caso di errore oppure se fare il controllo sul diverso null sul valore ritornato ci sono moltissime implementazioni delle code in Java vi annuncio subito che noi utilizzeremo sempre la priority queue quindi questo lo dico soltanto per vostro interesse esistono diverse implementazioni perché ci sono diverse esigenze come esempio c'è tutta la famiglia delle blocking queue le blocking queue vengono utilizzate per implementare un pattern che è quello del produttore consumatore quindi che è un problema abbastanza classico in informatica immaginate di avere da un lato qualcuno che produce delle informazioni che potrebbe ad esempio essere un thread del programma che scarica delle pagine web e d'altra parte avere il consumatore quindi un altro thread che deve consumare queste informazioni che deve processare queste informazioni quindi ad esempio deve processare le pagine web che sono state scaricate trovare non so dei tag particolari all'interno questo è un classico pattern produttore consumatore dove si distinguono due aree del programma una che scarica i dati una che processa i dati e questi dati potrebbero essere messi all'interno di una coda in modo tale da separare le due funzionalità la blocking queue cosa offre in più rispetto di una coda classica offre la possibilità del bloccarsi del bloccare il produttore nel caso in cui la coda sia piena quindi dice al produttore fermati perché non scaricare più pagine web perché la coda è piena quindi il consumatore indietro deve prima processare delle informazioni prima di prima che tu possa aggiungere delle altre e lo stesso modo se invece è vuota blocca il consumatore quindi evita di ritornare un'eccezione ma semplicemente lo metti in attesa a noi non interessano perché usare il pattern produttore consumatore richiede di utilizzare più thread credo e quindi utilizzare più thread noi ne l'abbiamo visto perché altrimenti se ci fossero solo thread e si blocca quel thread quel thread rimanerebbe in attesa di un evento che però non riceverebbe mai perché c'è un solo flusso di esecuzione al programma non c'è nessun altro thread che inserisce quell'evento quindi scartando le priority queue poi esistono un altro tipo di scusate scartando le blocking queue esiste un altro tipo di code che si chiamano the queue the queue è un è un nome che si è assegnato a questo double-ended queue e cosa significa significa che è una coda che permette l'estrazione sia in testa che in coda quindi sia in testa che al fondo sono particolarmente flessibili si pronuncia deck come mazzo si utilizzano in contesti particolari current linked queue è una coda che è thread safe quindi più thread possono accedere alla stessa coda ma di nuovo non ci interessa quello che noi utilizzeremo sempre sono le priority queue quindi nel caso di una priority queue la costruzione di una priority queue è un'operazione o grande di uno quindi un'operazione è costante l'aggiunta di un elemento nella priority queue è il log n quindi ci ricorda la complessità di un albero binario la rimozione sugli elementi è costante iterare sugli elementi è costante pic che significa ritorno all'elemento minimo è un'operazione di nuovo costante la rimozione invece è un log n poi vedremo il motivo size semplicemente ritorna il numero di elementi all'interno della coda quindi qual è la struttura dati che viene realmente utilizzata dietro una priority queue elip elip è una sorta di albero binario dove per ogni nodo si hanno sempre al massimo due nodi e figli la differenza è che è parzialmente ordinato infatti se vedete si perde la proprietà di ordinamento che avevamo definito prima perché 20 è minore è maggiore di 10 che è la radice perché la proprietà dell'ip è proprio quella di avere il nodo radice di avere come nodo radice l'elemento più piccolo infatti vedete 10 è più piccolo di 20 di 80 20 è più piccolo di 40 di 60 40 è più piccolo di 50 e 99 però tra 50 e 99 esiste comunque una relazione di ordinamento come esiste tra 40 e 60 quindi tra i nodi figli i nodi figli sono ordinati ma il nodo padre è il più piccolo di tutti questo è una struttura di dati particolarmente interessante perché nel nostro caso ci interessa sempre prendere quello a priorità il numero più piccolo sto parlando di più piccolo e quindi estraggo il numero più piccolo perché considero la priorità massima associata al numero più piccolo ma si potrebbe benissimo fare lo stesso discorso rigirando il tutto quindi parlando di priorità massima associata al numero più grande e quindi avere un ordinamento opposto comunque indipendentemente dall'ordinamento che si adotta il numero con priorità maggiore è sempre in testa quindi l'estrazione del numero con priorità maggiore costa pochissimo perché è il primo elemento di questa struttura dati ovviamente estrarre estrarre in realtà pic che significa ritorna questo elemento in un'operazione costante se voglio invece rimuoverlo non è più costante come complessità ma è una complessità logaritmica perché perché se estraggo questo elemento non ottengo più un albero connesso non è più un grafo connesso ma diventa una foresta perché sotto l'albero di sinistra che è sconnesso a quello di destra quindi deve essere fatta un'operazione di di rimaneggiamento dell'albero dove il nodo ve la spiego ma soltanto per vostro interesse il nodo 65 viene provato come nodo radice perché il nodo 65 è il più grande tra i vari nodi dell'albero viene provato in testa e poi a questo punto si applica un ordinamento sia il nodo 65 deve essere portato nella sua posizione che diventa quella tutta sulla sinistra perché il nodo radice deve essere più piccolo rispetto ai nodi foglia comunque indipendentemente da come funzioni poi l'IP sappiate che dietro la priority queue esiste questo tipo di struttura dati questo è un esempio molto semplice di priority queue create una priority queue come al solito come tutto in java come tutte le collection accetta un tipo generico potrebbe essere una stringa come in questo caso oppure un oggetto più complesso che voi definite che è la particolare tipologia di evento della simulazione che vorrete andare a gestire quindi l'arrivo di un paziente se è l'arrivo di un paziente perché è l'ospedale metterete al posto di string paziente aggiungete degli elementi all'interno della coda e questi elementi vengono poi ordinati cosa è dovuto all'ordinamento come tutto in java vi ricordate che per ordinare degli elementi ci sono sempre due possibilità che sono una implementare l'interfaccia comparable e l'altra possibilità invece è quella di di ridefinire il comparator quindi il comparable si definisce è un'interfaccia che quindi va implementata a livello di classe mentre il comparator è un oggetto custom che viene creato nel momento in cui definite la priority queue questo permette di definire un ordinamento diverso rispetto al comparable perché potreste volere una coda volere creare una coda con un ordinamento particolare che non è quello di comparable quindi questo ha priorità maggiore rispetto a questo ordinamento qua ha priorità maggiore rispetto a comparable avete delle domande su questa parte? tutto chiaro? allora nelle prossime settimane sicuramente farete un sacco di esercizi sulle simulazioni in realtà il laboratorio di domani è ancora sui grafi però nelle prossime settimane passerete alle simulazioni e poi con il professor Corno vedrete anche degli esercizi in aula sfrutterei questo questa mezz'oretta questi 25 minuti ancora per vedere la soluzione dell'ultimo laboratorio perché era un pochino più complesso tutto dal punto 2 del laboratorio 9 se siete d'accordo oppure se avete domande specifiche potrebbe essere un'occasione o su qualsiasi laboratorio potrebbe essere un'occasione per rispondere alle domande particolari ora direi che possiamo vedere la soluzione dell'ultimo laboratorio il punto 1 nel punto 1 bisognava semplicemente creare un grafo a partire dalle varie tabelle che riportavano le diverse connessioni all'interno della metropolitana di Parigi tra le diverse stazioni della metropolitana di Parigi il punto 1 era abbastanza semplice perché tutte le informazioni si trovavano informazioni sugli archi si trovavano nella tabella connessione informazioni sui nodi nella tabella fermata e poi una volta costruito il grafo bisognava selezionare la stazione di potenza di arrivo e calcolare il cammino minimo con Dijkstra invece il punto 2 era un pochino più ostico perché si diceva non consideriamo soltanto le connessioni come in termini di linea ma consideriamo anche le connessioni sulla linea questo significa siccome una stessa fermata può essere utilizzata da più linee cerchiamo di separare le diverse fermate sulla base della linea in modo tale che calcolando il cammino minimo non si possa passare da una linea all'altra in modo senza calcolarne nel peso perché nel primo punto si considerava come il peso dell'arco il tempo di percorrenza tra due fermate per una determinata linea e il tempo di percorrenza era determinato dalla velocità a parte dalla distanza tra le due fermate ma anche dalla velocità del treno quindi è possibile che linee diverse avessero la velocità di percorrenza diversa e quindi una linea fosse più veloce rispetto all'altra nel collegamento tra due fermate in modo tale da e quindi nel calcolo del cammino minimo era possibile che magari tutto il cammino fosse prevalentemente sulla linea blu e poi per un tratto si passasse alla linea gialla perché quelle due fermate erano collegate più velocemente il problema di questa soluzione è che voi sapete se avete mai preso una metropolitana in una città con più linee che comunque cambiare da linea ha un costo ha un costo che almeno è pari al tempo di attesa del nuovo treno sulla nuova linea quindi volevamo creare un nuovo modello un nuovo grafo che permettesse di 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 modellare questo nuovo problema ossia se cambio linea devo inserire nel calcolo del cammino minimo il costo di questo cambio linea e una delle soluzioni che ci è venuta in mente è questa quella di dividere di separare ciascuna stazione con una stazione su una particolare linea ad esempio in questo caso abbiamo la stazione viller che è toccata da due linee dalla linea blu e dalla linea gialla e quindi come vertici del grafo come nodi del grafo non inseriamo più solo la stazione viller ma inseriamo la stazione viller sulla linea gialla e poi la stazione viller sulla linea blu infine però dobbiamo anche collegare le due stazioni perché di fatto sono la stessa anche se ci sono due sottostazioni una per linea e le colleghiamo con degli archi che sono determinati dall'intervallo dei treni sulla linea di destinazione quindi se voglio collegare la linea gialla con la linea blu di questa stazione qui questo arco avrà come peso l'intervallo dei treni sulla linea blu perché se cambio quindi se passo la linea gialla alla linea blu so che nel peggiore dei casi dovrò aspettare un intervallo pari alla frequenza di percorrenza dei treni sulla linea blu e invece l'arco opposto il peso dell'arco opposto sarà dato dal tempo della frequenza dei treni sulla linea gialla quindi all'opposto quindi cosa cambia tra l'esercizio 1 e l'esercizio 2 nell'esercizio 1 si prendevano le informazioni della tabella connessione e si creava il grafo utilizzando soltanto queste informazioni nell'esercizio 2 invece le informazioni della tabella connessione servono per creare i collegamenti sulla stessa linea in più però bisogna creare questi collegamenti tra le stesse fermate quindi fermate che hanno lo stesso ID ma linea diversa e quindi questa era la parte che bisognava aggiungere ed era un pochino difficile forse quindi cerchiamo di guardarla insieme per vedere se ci sono delle difficoltà nella mia implementazione nella classe DAO ho deciso di utilizzare delle mappe quindi il DAO i vari metodi della classe DAO non mi ritornano soltanto la lista delle fermate la lista delle linee ma mi ritornano delle mappe questo perché ho deciso di diciamo che questa scelta deriva da come ho deciso di creare la classe connessione infatti nella classe connessione ho messo a parte i lidi della connessione che è l'identificativo di questa classe anche un puntatore alla fermata un puntatore alla linea e un puntatore alla stazione e il metodo più semplice che ho trovato è stato prima nel modello ottengo la lista di tutte le fermate come una mappa tra un intero con l'identificativo della fermata e la fermata faccio lo stesso ottenendo tutte le linee e passo poi queste informazioni come argomenti al metodo get all connessioni quindi il metodo get all connessioni ottiene due mappe sia una per le linee e una per le sezioni e utilizza questa informazione per ricavare a partire dall'id della linea della stazione di partenza di arrivo gli oggetti in questo modo evito di duplicare gli oggetti perché gli oggetti esistono una sola volta nel leap li ho creati nei primi due metodi li ho inseriti in una mappa questo per la ricerca veloce e poi semplicemente nella classe connessione crea dei collegamenti a questi oggetti già esistenti e quindi non li duplico perché duplicarli potrebbe creare dei problemi sia dal punto di vista dello spazio occupato sia dal punto di vista del grafo quando lo vado a creare quindi utilizzo gli id per ottenere gli oggetti linea stazione di partenza stazione di arrivo e poi creo un nuovo oggetto connessione con l'id della connessione e poi questi tre oggetti che ricavo dalle mappe che ho passato a questo metodo quindi nel model quello che faccio nel metodo crea grafo è prendere tutte le fermate prendere tutte le linee prendere tutte le connessioni a partire dalle fermate e dalle linee e poi in ultimo ho un metodo che si chiama get all fermate su linea che mi istituisce una lista delle fermate di tutte quelle fermate che al loro interno hanno più linee hanno una fermata specifica su una linea qui c'erano diverse possibilità di come implementare potevo ad esempio creare un metodo che dato una particolare fermata mi dicesse se questa fermata aveva una fermata specifica su più linee ho preferito invece creare un metodo che mi istituisse tutta la lista di tutte le fermate con l'identificativo sia della fermata che della linea però c'erano soluzioni equivalenti e comunque tutte corrette quindi come vertici cosa aggiungo? aggiungo fermate su linea quindi i vertici del grafo rispetto all'esercizio 1 cambiano non sono più le fermate ma sono fermate su linea fate però attenzione che in questo secondo esercizio cambiano soltanto gli oggetti vertici del grafo gli oggetti del vertici del grafo non gli oggetti dell'interfaccia controller ossia nel controller quello che l'utente seleziona è sempre una fermata non una fermata su linea quindi l'utente dirà sempre che vuole andare dall'aeroporto fino alla stazione del Louvre non dirà mai vuole andare dall'aeroporto linea 3 alla stazione del Louvre linea 5 perché immaginate un'interfaccia in un vero sistema metropolitano per un vero sistema metropolitano l'utente non è già a conoscenza del percorso altrimenti il programma non servirebbe a nulla l'utente inserisce dove vuole partire dove vuole andare e poi il programma che sceglie la combinazione di linee migliori sia come partenza che come arrivo quindi a questo punto bisogna quindi in fase 1 aggiungo tutti i vertici uno per ogni fermata su linea fase 2 devo aggiungere tutte le varie connessioni come faccio a creare una connessione itero sulla tabella connessioni la tabella connessioni già mi dà la fermata di partenza la fermata di arrivo e la linea specifica quindi ho tutte le informazioni di cui necessito quindi posso ricavarmi dalla tabella connessione posso ricavarmi di quale fermata sto parlando e di quale linea sto parlando e poi posso unirle per unirle ho deciso di utilizzare se vi ricordate ci sono due metodi per creare un arco un metodo prevede di utilizzare add edge e di passare due parametri che sono le due fermate questo metodo al suo interno chiama il costruttore della classe dell'arco e restituisce l'oggetto costruito siccome però nel mio grafo ho deciso di utilizzare come arco una classe custom ho deciso di utilizzare un attimo che trovo la definizione ho deciso di utilizzare link perché voglio salvare nell'arco l'informazione della linea ho deciso quindi di estendere default weighted edge se ridefinisco una nuova classe come arco ricordatevi che è importante inserire il costruttore senza parametri oltre a quello classico che accetta un parametro e questo perché il metodo add edge non è a conoscenza dei parametri che deve passare a quel particolare costruttore che io ho definito e quindi chiamerà sempre comunque il costruttore senza parametri quindi se utilizzate add edge come in questo caso ricordatevi sempre e utilizzate anche un oggetto custom come arco ricordatevi sempre di inserire il costruttore senza parametri quindi avete un'eccezione che vi dirà qualcosa come edge factory failed o qualcosa del genere l'alternativa è quella di utilizzare il metodo add edge con tre parametri dove come terzo parametro ottiene richiede l'oggetto già creato quindi un'alternativa era quella di crearmi il link creare un nuovo arco in cui setto tutti i parametri e di passarlo già costruito al metodo add edge in questo caso se utilizzo questa seconda soluzione non sarebbe stato necessario ridefinire il costruttore senza parametri perché non l'avrei mai utilizzato un altro controllo molto importante che altrimenti che dovete fare altrimenti il programma non funzionerebbe è quello di controllare che l'oggetto restituito sia diverso da null perché se inserite un arco se provate a inserire un arco ma questo arco esiste già ad esempio tra la sezione A e la sezione B un arco orientato ma per qualche motivo l'avete già inserito la seconda volta non verrà più costruito un nuovo arco perché all'interno l'ibrilla jgraph-t controllerà l'esistenza di quell'arco in tal caso restituirà un oggetto null e quindi dovete fare il controllo altrimenti chiamate dei metodi su un oggetto null e quindi il programma si pianta quindi direi ricordatevi se utilizzate ad edge due cose costruttore senza parametri sulla classe dell'arco e poi il secondo di effettuare il controllo che sia diverso da null sempre anche perché i dati che prendete dal database molti probabilmente saranno dati reali e dati reali hanno tutte le porcherie che si può immaginare quindi sono ripetuti sono a volte incompleti potrebbero essere sbagliati proprio come nella loro struttura eccetera quindi bisogna quando si lavora con i dati reali bisogna assumere che la sorgente non è fidata non è trusted e quindi vanno fatti tutti i controlli possibili ovviamente noi negli esercizi cercheremo di dare dati più filtrati possibili ma a volte come avete visto ci sono degli errori l'ultima fase quindi la fase 2 era quella di aggiungere le varie connessioni tra tutte le fermate e nell'ultima fase quindi nella fase 2 ho creato questi archi dello stesso colore che collegano le fermate sulla stessa linea adesso devo collegare le fermate che hanno lo stesso identificativo però sono su linee diverse qui ci sono tutta una serie di metodi possibili quello che io ho pensato è stato itero sulle fermate queste fermate qua che chiamo fermate sono quelle non su linea ma proprio fermate sono quelle che giungono nel controller su ogni fermata ho inserito poi una mappa in ogni fermata ho inserito una mappa di quali sono le fermate su linea per quella particolare fermata e questo è particolarmente interessante perché siccome avevo già l'informazione dal database di tutte le fermate su linea a volte potrebbe essere utile data una fermata sapere quali sono le fermate su linea per quella specifica fermata e quindi per evitare di ogni volta dover iterare sulla lista originale mi salvo questo risultato quindi faccio un po' di pre-processing ma quando poi mi servirà me lo trovo già a disposizione quindi io ho deciso di iterare su tutte le fermate su tutte le 600 fermate della metropolitana di Parigi e per ogni fermata faccio un doppio ciclo sulle fermate su linea di quella fermata questo ciclo è vero che sono tre cicli in i dati quindi a prima vista potrebbe essere un po' spaventoso però ricordatevi che in questo primo ciclo ha circa 600 elementi questi due secondi il secondo e il terzo sono cicli su pochi elementi perché tipicamente mi aspetto che una fermata abbia una due tre massimo quattro linee ma nella maggioranza dei casi abbia una sola linea quindi raramente itero più volte su su questi cicli e se itero lo faccio poche volte quindi controllo che ovviamente che la fermata di partenza e la fermata di arrivo non coincidono utilizzate sempre equals lo ripeto sempre perché continuo a vedere compare to per controlli di uguaglianza e in tal caso se non coincidono allora bisogna creare un edge stesso procedimento rispetto a prima quindi crea un link link diverso a null se il link è diverso a null allora setto tutti i dati che sono quello della linea e dell'intervallo l'intervallo è quello della linea di destinazione quindi quello della fermata di arrivo la fermata su linea di arrivo di destinazione altra cosa l'ultima cosa interessante è il calcolo del percorso minimo prima il calcolo del percorso minimo era banale inserivo il formato di partenza il formato di arrivo chiamavo D'Aistra e D'Aistra mi restituiva il path unica nota che mi concedo su questo è attenzione alla versione della libreria di ZGraphT che utilizzate perché erroneamente nel progetto io vi ho ancora dato la libreria vecchia che è quella 0.9 e quindi nella libreria vecchia per ricavare il path bisognava iterare sulla lista di archi quindi per ricavare la lista di fermati bisognava iterare sulla lista di archi e poi dalla lista di archi prendere il vertice di sorgente o target e quindi costruirsi la lista di fermati a partire dai vertici incidenti ai vari archi che costituivano il path in realtà nella versione 1 della libreria ho visto che hanno aggiunto un nuovo metodo che già restituisce in automatico la lista dei vertici comunque in ogni caso è stato utile farvi lavorare anche con la versione vecchia così avete visto entrambe le possibilità cercheremo comunque di darvi la versione della libreria più recente quindi all'esame dovrebbe essere più veloce questa parte in caso quindi in ultimo come si fa a calcolare in questo specifico secondo esercizio il cammino minimo bisogna calcolare tutte le varie possibilità tra tutte le stazioni di partenza su linea e tutte le stazioni di arrivo su linea per quella particolare fermata di partenza di arrivo selezionata perché a differenza di prima l'utente perché come prima l'utente selezionerà viller esempio roma però sarà a voi fare tutte le combinazioni possibili perché l'utente potrebbe benissimo prendere la linea gialla come la linea rossa come la linea blu quindi quello che io ho fatto è stato un doppio ciclo dove prendo data la fermata la fermata è quella selezionata dall'utente nell'interfaccia grafica quindi data dalla fermata di partenza data dalla fermata di arrivo ritro su tutte le fermate su linea di quella fermata di partenza e quella fermata di arrivo con questi doppi cicli for questo doppio ciclo for e poi calcolo il cammino minimo tra questa combinazione fermata su linea di partenza e fermata su linea di arrivo e tra tutte le combinazioni che saranno qualche decina una decina nel peggiore dei casi prendo quella che ha il peso minore e la restituisco quindi a differenza di prima dove prima chiamavo D'Aistra una sola volta tra la fermata di arrivo e la fermata di partenza in questo caso D'Aistra lo chiamano più volte sulle diverse combinazioni di fermate di arrivo e fermate di partenza avete delle domande ora se è tutto chiaro vi auguro buona serata e a presto